È stata una partita tosta perché noi siamo un pochino calati durante la partita, loro sono cresciuti e questo ci ha complicato notevolmente la vita. Secondo me ci deve servire di insegnamento che non c'è nulla di scontato, vincere è sempre speciale e non è che siccome siamo primi, un po' di storia, siccome siamo forti le cose vengono in automatico. Dobbiamo guadagnarcele ogni volta e alla fine ce lo siamo guadagnato però mettendoci un pochino in difficoltà. Credo che ho una rosa di 14 giocatrici tutte valide, abbiamo fatto una prima parte di stagione in cui abbiamo rodato un sesteto ma credo che chi è in panchina ci può dare una mano ulteriore. Visto quello che ci aspetta penso che tutte devono sentire il campo e sentire sia la fiducia sia la possibilità di essere importanti. Oggi alcune cose sono state fatte bene, altre le dobbiamo migliorare però è quello che voglio da questa squadra.